Dara sì, qui come è? Ecco io Lei c'è che ha visto brutta taglietta Dopo il siede perché ti segui subito a mezzo Sì, vabbè, tanto da... Sì, sì E qui? Montando? Ah Eh, basta Ah, ma... ...d'acqua c'è una volta, non è un'altra... ...d'acqua c'è un dato ...d'acqua c'è un dato ...d'acqua c'è un dato ... D'acqua c'è... ... Grazie a tutti 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 Ciao